passiamo ai mitici loose pearl eyeshadow di nyx che sono i mitici pigmenti nella nyx allora io ne ho acquistati cinque nella confezione full e altri cinque pigmenti cinque sample scusate da una ragazza sul forum di passione per il make up li ho acquistati l'anno scorso quindi non so se ne vende ancora controllate comunque sul forum vi lascio il link nel box informazioni allora partiamo con i pigmentini nella confezione intera vedete sono molto piccini ultra per mania questi sono allora questo è il numero un attimino se si vede nelle nude vi faccio vedere il l'interno vedete come sono fatti sono un po difficili da prelevare infatti io come vedete sono quasi metà perché li travaso nelle jar nelle classiche jar come questi sample non riesco a prelevarli anche perché nel tappo come vedete non si può travasare dentro la quantità di prodotto e poi prelevarli da qua anche perché poi se andate a chiuderli vi va ovunque quindi io ho adottato questo stratagemma allora sono tutti estremamente perlati quindi non ci sono colori opachi questo che è il nude nude e non mi viene è questo colore come vedete qui spero si veda questo crema molto molto brillante vedete quanto perlato molto carino poi ho acquistato il link che è questo vedete che mira un pochettino più sull'oro ancora un pochettino più scuro molto carino anche questo sempre perlato poi questo che è più sul sull'aranciato diciamo oro un punto su loro ma è molto molto carico vedete molto molto intenso molto scendere e poi abbiamo il mocha 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 mamma mia devo fare un po di ripetizioni che è questo bellissimo colore molto chiaro vedete molto luminoso è un marroncino chiaro quasi un torto ora definiamolo così e poi il mio preferito che questo marrone cioccolato che è il valnut per che questo colore molto molto intenso molto pigmentato stava scappando via dalle mani eccolo qui ecco sono tutto sono tutti molto abbastanza coprenti durano a lungo io preferisco metterli applicarli sopra un matitone cremoso una base cremosa perché intensificano il colore ancora di più poi quindi questi sono dei colori perfetti abbastanza naturale sì ok sono un po shimmer però come vedete sono dei colori tranquilli poi ho acquistato questi colori che erano le novità dell'estate dell'anno scorso e sono molto particolari come vedrete allora ho il very pink ma è venuto via sì very pink e si sono un po squagliate le scritte che è come vedete questo aspettate questo rosa molto carino con è simile all'oro rosa di trucco minerale e lo vedete qua nello swatch vedete che ha questi riflessi un po dorati molto molto carino poi abbiamo il lilla cioè è un viola che mamma mia è veramente straordinario dei riflessi guardate dei riflessi blu anche questi sono tutti parlati eh ma questi riflessi blu è veramente molto bello vediamo se è simile spero di sì poi c'è questo arancio ve l'ho già detto se non so se sono ancora disponibili se magari facevano parte di una collezione limitata e questo non me lo ricordo sinceramente mannaggia a me guardate questo è un arancio molto 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 estivo con delle pallizzine dei micro brillantini oro molto carino guardate veramente carino e poi ho due verdi che uno contiene dei brillantini dorati che è questo questo è il colore ah vedete che mi è un po' fuoriuscito dalla jar questo è il colore e questo è la swatch vedete che ha questi riflessi dorati mentre l'altro che è il jade questo invece ha fatto un casino infatti verrà fuori ovunque questo è il jade ah vedete e devo stare un pochino a tinte perché infatti mi sono già impiastecciata la mano è un verde molto intenso molto estivo anche questo ed è questo qua che ha dei riflessi più sul giallo vedete molto carini comunque molto estivi adattissimi ecco si vedono meglio vedete ecco quindi questi purtroppo di questi io non ricordo il prezzo perché appunto avendoli acquistati in stock da questa ragazza sul forum non ho segnato forse sono però forse sulla mia review mi pulisco un attimino sulla mia review sul blog c'è scritto tutto quindi io direi sì sì vi metto il link così andate a curiosare di là e vi metto vado a controllare anch'io dai vi metto il prezzo in una nuvoletta ok ragazzi io ho concluso spero che questo non è solo un video ma mi sa due o tre poi vedrò in fase di montaggio questi video vi siano piaciuti vi siano stati un po' utili spero si sia visto tutto perfettamente o se non perfettamente almeno un pochino bene io vi saluto e alla prossima ciao ciao